Uè, a belli belli! Bentornati ad un altro episodio con il vostro amico fraterno Barbaruffa. Quest'oggi vediamo un gioco free to play, gratuito, che trovate su Steam. Non so neanche di che cazzo si tratta, semplicemente ho trovato un gioco gratuito, l'ho scaricato e adesso lo proviamo. Si chiama Missing Translation. Bene, so che un gioco indipendente è che... wow, cosa posso fare? Dunque, e... veniamo e... Ah, ok, ho deciso di essere un uomo. Fra l'altro sono io, ho anche la barba, ho i capelli più corti, però ok. Bene, e... sì. Non riesco a dormire. Mi giro nel letto. Forse ho freddo, torso nudo, no. Cammino, è notte, perché non riesco a dormire. Allora esco di casa e cammino. E... e quindi... E quindi... Wow, wow, wow! Wow, un rombo bianco mi ha tramutato in un oggetto trasparente. E... e ora... E ora... Wow, come faccio? Non riesco a spostarmi. C'è questo quadratino che sta cadendo in un altro universo. C'è un gatto. Sono un gatto. Sono il quadratino. Dove va sto quadratino? Ok, vabbè, non fa niente. Ok, posso usare le freccettine e la E. Vai, premiamo la E. E... Niente, di qua non ci voglio andare. Quando posso interagire con gli oggetti, mi trasformo... Cioè, materializzo una lampadina sulla mia testa. Ok. Cosa mi permetti di fare? No. Sicuramente dovrò mettere in ordine... Gli interruttori. No, neanche questo è l'ordine. Vabbè, riproviamo. Prima quello estrema destra. Questo no. Questo no. Questo no. Questo. E poi... Proviamo questo qua. Oh, che palle! Cosa sta succedendo? Perché soprattutto è tutto grigio? Che cos'è una mappa? Un puzzle? Evviva! Sono felice di aver contribuito al... Risolvere questo enigma. Vivere è una esperienza bella. Ok. Benissimo. Andiamo a sinistra adesso. Scendiamo le scale. Anzi no, premiamo la I. Ecco qua. E adesso? Ehi, mi è venuta un'idea. Ma quello... Era un me. Cosa volete che faccia? Su, giù, destra, sinistra e Q. Cancellato tutto. Cosa ho vinto? Boh? Ah, ok. Adesso che cosa vuoi che faccia? Sto andando avanti ma non capisco che cosa sto succedendo. Sto semplicemente cancellando le... Ah, ah, forse ho capito. Devo cancellare tutti i quadratini. Senza dover ritornare sui miei passi. Cioè facendomi un'unica stradina. D'accordo. Questo riesco a farlo. Carina l'atmosfera di questo gioco. Ok, adesso forse potrei avere dei problemi. No. Continuo a non capire qual è la difficoltà. 4 su 25. Mi stai dicendo che devo fare... Oh. Ah, adesso le cose iniziano ad essere un pochino più porcelline. Difficiline. Che carina la colonna sonora. Rimaniamo in silenzio a parlare dei nostri sentimenti. Ah, quella... Quella delicatezza da ristorante cinese. Ho capito, però. 8 su 25. Non sarà un pochino monotona questa sezione? Capito che il gioco è gratis, ma... Ok, vediamo adesso che cazzo dobbiamo fare. Vediamo un po' come va. No, così mi sono intrappolato da solo. A meno che... A meno che... Sì, madonna quanto sono intelligente. Merda, ragazzi. Proprio una macchina da guerra. Mi sto rompendo un po' tre quarti di cazza a questo punto del gioco. Sì, ma dai, cazzo, sono al dieci. Non è possibile. Oddio, mi si incrociano anche gli occhi... Admentula canis, come dicono i latini Alla cazzo di cane Vabbè Sentite, io non cambio perché Voglio uscire da questo sistema di enigmi Perché mi sono un po' rotto tre quarti di cazzo Vediamo un po' Ma che bella signorina, non posso parlare Buonasera? No, niente, vabbè Entriamo in quest'altro Quest'altra struttura Qui cosa c'è? Un tavolo Tutto quanto con le icone Uno, due, tre, no, che cos'è? Va bene, dai, entriamo in questo Uh, bello enigmatico, enigmoso Vuoi vedere che devo salire le scale? No, non mi fa salire le scale Va bene, allora io direi che Te ne puoi andare a fanculo Qui invece che cosa mi dici? Ah, una faccina che ride Ora sì che ragioniamo Come faccio ad esprimere il mio apprezzamento? Niente Ma vuoi vedere che devo andare a finire Quei cazzo di enigmi Daaaaaa Forse non sono abbastanza ispirato e indie Per apprezzare questo titolo? Non male, beh, per essere gratuito Oddio, questo cos'era? Pensavo di essere entrato in un'altra parte Uno, due, uno Dai, vai Oh no, no, no Sono entrato nella parte giusta Però Volevo arrivare fino alla dodici Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici E scaltro come una faina Ta 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 Non è molto accattivante però Cazzo, volevo qualcosa di più Gratuito Gratuito Libero dai problemi Dalle preoccupazioni Bella la colonna sonora però Ta 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 Finisco questa Vi faccio vedere quanto sono bravo E poi Lo zio barbaroffa Se ne va a fare Nel culo Pam! E' affinito Siamo al quindicesimo enigma Ma non andiamo più Avanti Ci vediamo presto Oh mio dio Ma quella lampadina in realtà Ha una faccia cattiva E mi sta fissando con le sopracciglia Ha!